Ciao ragazze e ciao ragazzi, stasera video tag, ho trovato questo tag dal canale della signorina Rotemeyer, si chiama confessioni di una viaggiatrice, giù dall'info box vi lascio le domande alle quali sto per rispondere e se lo trovo il video di Valentina ve lo lascio come link all'interno e anche nelle informazioni e se avete un canale vi esorto a rispondere anche voi, se siete una viaggiatrice vi esorto a rispondere perché sono curiosa di conoscerevi un pochino meglio, se non avete un canale siete esortate doppiamente magari a rispondermi a qualche domanda all'interno dei commentini. Sono 15 domande, dovremmo andare abbastanza spedite, tre aggettivi per definire che viaggiatrice sei, allora direi organizzata, esploratrice, musei, bar, aree archeologiche eccetera, molto culturale. Sono una viaggiatrice che non va mai all'avventura, nel senso quando io e il mio fidanzato organizziamo un viaggio cerchiamo di organizzarlo nei minimi dettagli, anche nei minimi spostamenti per evitare di perdere tempo durante le giornate di vacanza. Adoro tantissimo se durante le giornate di vacanza abbiamo delle ore tra i guette libere dalla tabella di marcia, ci piace molto perderci, camminare nelle viuzze meno frequentate dai turisti, scoprire piccoli posticini, sederci così e guardare la vita quotidiana delle persone e come si muove. Poi da sociologa mi piace ancora di più vedere queste cosine e adoro i musei, adoro vedere aree archeologiche, adoro entrare in chiese, guardare nei minimi dettagli certe piccole bellezze, mi piace tantissimo. Viaggi spesso? Non quanto vorrei, di solito cerchiamo di farci una vacanza culturale almeno una volta all'anno, di solito cerchiamo di farla considerare con le vacanze estive, perché si viaggia più leggeri praticamente, però abbiamo anche viaggiato durante i mesi invernali. Con quale criterio scegli la destinazione dei tuoi viaggi e delle tue vacanze? Noi abbiamo dei luoghi che vorremmo visitare e stiamo cercando mano a mano di vederli tutti, di solito facciamo una tappa estera e europea e una tappa italiana, quest'anno dovrebbe capitare una tappa italiana, dovremmo andare a Torino se va tutto bene. Se ne state in campeggio, in ostello e in villaggio? Allora, sono state in campeggio quando ero adolescente, perché mia zia aveva una roulotte qua a Marina di Camerota e quindi per una settimana sono andata in vacanza con loro, in ostello mai, in un villaggio nì, nel senso che la famiglia del mio fidanzato ha comprato una villetta che prima era all'interno di un villaggio, poi il proprietario del villaggio, vabbè, diciamo di sì. Vacanza in albergo, appartamento, residence? Di solito bed and breakfast o comunque alberghetti che danno la prima colazione, l'appartamento non l'abbiamo mai preso e il residence nemmeno. Prepari un programma dettagliato della vacanza o preferisci improvvisare? E come ho detto prima, si contano anche i minuti. Ti definisci un viaggiatore organizzato? Assolutamente sì. Quante valigie porti? Allora, se devo viaggiare in aereo e sono pochi giorni, di solito porto solo il bagaglio a mano, se la vacanza da tre giorni diventa di quattro, cinque, sette, eccetera, di solito facciamo un bagaglio a mano, a testa, più una valigia grande che ci buttiamo il resto di tutti e due. Poi, vabbè, il beauty cerco sempre di tenerlo all'interno del bagaglio a mano. Con alcune compagnie si può portare anche la borsa, quindi diventa bagaglio a mano più borsa. Faccio bagaglio a mano più pochette del trucco che diventa anche borsa. Quante paia di... Ah no, poi sto facendo questo con l'aereo. Se viaggiamo in treno ho una valigia di media dimensione, a metà tra un bagaglio a mano e una un po' più grande, così posso mettere con comodità le pochette del trucco, non so, le borse, le scarpe, mettere vestiti in modo più comodo, portarmi anche un cambio in più e altre cose. Se viaggio in auto non ho freni, nel senso, quando andiamo in vacanza al mare, alla casa al mare, caos, 10.000 bochette del trucco, 10.000 scarpe, 10.000 borse, 10.000 vestiti, che poi non li metto nemmeno, vabbè, magari un giorno vi farò vedere il caos che porto quando vado in vacanza al mare, al mio fidanzato, poverino, perché con la macchina mi ho uno sfizio di portarmi tutto quello che voglio, non ho sensi di colpa, ecco. Quante paie di scarpe e quante borse? Allora, se ho una vacanza culturale, c'è sempre la borsa grande che porto con me dall'inizio e mi accompagnerà per tutto il viaggio. Se questa vacanza culturale all'interno c'è un'occasione speciale, quindi che può essere un compleanno di uno dei due o altre occasioni in particolare, cerco di portarmi una piccola pochette per la sera, scarpe quelle con i piedi e se c'è l'occasione particolare un'altra paia di scarpe elegantine. Se invece la vacanza al mare, una scarpa al giorno, a volte anche due, una borsa al giorno, a volte anche due, sorvoliamo! Quanti libri? Zero. Io non sono una lettrice, preferisco, non so, musica, eccetera, ma non porto libri. Quando ero più piccolina che viaggiavo, che tipo andavo a casa della nonna, eccetera, c'avevo degli esami imminenti, mi portavo i libri per gli esami, ma libri di lettura piacevoli? No. Come organizzi i prodotti di make-up? Quali e quanti ne scegli? Un fottio. A riscusare il francesismo. Allora, sempre rispetto alle modalità dei viaggi, allora se vado, prendo l'aereo o comunque il viaggio culturale, di solito porto, vabbè ovviamente prodotti di skin care, creme, cremine, shampoo, balsamo, chi più ne ha più ne metta, poi qualche matita colorata, mascara, non mi ricordo se l'ho detto, un paio di gloss, un gloss e un rossetto, due rossetti, uno scuro e uno chiaro, cerco di evitare gli ombretti perché se porto alcune matite colorate mi rifaccio il trucco utilizzando le matite, sì, però è capitato pure che mi sono portata fondotinta, tutto, anzi per questo ho fatto un paio di video come ho organizzato il mio beauty, magari ve li lascio giù, poi, ah invece se invece la vacanza al mare, non mi ricordo se nei video come ho organizzato il mio beauty c'è anche il beauty della vacanza al mare, ma credo di sì, con questa zona dell'info box, come per le scarpe, le borse, eccetera, c'è un fottio di roba, hai mai perso un aereo, un treno, un traghetto? No, fortunatamente no, mi verrebbe l'ansia solo al pensiero, sono una persona troppo organizzata, così come il mio fidanzato che di solito arriviamo sempre con 72 ore d'anticipo, raccontaci una disavventura in viaggio, una disavventura in viaggio, essendo viaggiatori molto organizzati non abbiamo mai avuto delle disavventure, forse una volta a Londra volevamo andare, dove dovevamo andare, non mi ricordo comunque eravamo molto stanchi, o sbagliamo linea della metro, o scendemmo a un'altra stazione, non mi ricordo, comunque sbagliamo qualcosa e arriviamo con un po' di ritardo, io mi ero appisolata tranquillamente, il mio povero fidanzato che io mi appisolo, lui cerca sempre di rimanere il più sveglio possibile, si è un pochino arrabbiato con me, perché mi ero appisolata però, vabbè può capire a tutti, il viaggio più bello che hai fatto? Probabilmente non l'ho ancora fatto, perché spero sempre che il prossimo sia più bello, più interessante, più del precedente, invece poi ogni volta è diverso, Londra sarà diversa da Parigi, Parigi sarà diversa da Venezia, Venezia sarà diversa da Firenze, e tutte le altre tappe che abbiamo fatto. Il viaggio, la vacanza dei tuoi sogni o che non è ancora fatto? Allora, al momento vi direi Giappone, allora praticamente ho visto di recente il video di Nicole, quindi Kissai Makeup01 e di Federica, che prima si chiamava Blue Bin e ora si chiama? Oddio non mi ricordo, come ti chiami Federica? Oh mamma, Prismatic 3 qualcosa, vabbè Prismatic qualcosa, vi lascerò i riferimenti, e praticamente sono andate in Giappone, quando ho visto i cosmetici di Sailor Moon, tutti i gadget, poi la partita non sono una partita di manga quanto di anime, perché non mi piace leggere, però mi piace guardare, ho sempre guardato cartoni animati e li guardo tuttora, quando ho visto quella penne liner con l'assuccetto che era la penna lunare di Sailor Moon, sono impazzita, ci vuole andare anch'io, poi mi piacerebbe vedere i tempi, vedere il modo in cui loro vivono, che essendo dall'altra parte della terra è molto diverso dal nostro, ma invece deve andare anche in America, in America per esempio mi piacerebbe fare un lunghissimo viaggio, a parte vabbè gli Stati Uniti d'America, quindi passare da una parte all'altra della costa, fare un bellissimo viaggio culturale dell'America del centro andando verso l'America del sud, quindi vedere i resti degli Inca, Maya, eccetera, veramente fare un viaggio esageratamente lungo, mi piacerebbe anche andare in Australia, perché sempre per il fatto che dall'altra parte del mondo vedi una cultura molto differente, popoli diversi, modi di vivere diversi, di affrontare le cose diverse, mi piacciono molto. Ok, video finito, spero di avervi tenuto compagnia e vi invito ancora a rispondere a questo video tag, se avete un canale con un video di risposta, anche se non si possono mettermi, lasciate il link in un commentino, se non avete il canale magari rispondete a qualche domandina, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!